Salve ragazzi, David Asseloff, alias Michael Knight, dalla base Knight Industries è qui per voi. Ora, rimanete sempre seduti al vostro posto durante tutto il tour. In caso di pericolo, schiacciate questo bottone sulla plancia. È il Turbo Boost e servirà a togliervi da qualsiasi impiccio. Parola di Michael Knight. Seguite tutte le indicazioni dei nostri piloti del Superjet per la corsa della vostra vita. Io sarò qui per seguirvi per tutta la durata del test dalla nostra base operativa Knight Industries. Preparatevi a un'esperienza unica e come diceva sempre Devon, mi raccomando, fate attenzione. Anche una corsa può fare la differenza. Io sono la voce del Knight 2000, kit per gli amici. Benvenuti a porto, vi presento Jake, mio co-pilota per tutta la missione. Kit, vi seguo sui monitor, attenetevi al piano. Esattamente ciò che intendo fare. Kit, andateci piano. Avete ospiti a bordo. Kit, brutte notizie. Gart si dirige verso di voi su un elicottero. Mettetevi in salvo. Attivare modalità event. Kit, sei già entrato nella Jet House? Dove vuoi che sia? Dovreste essere al sicuro. Grazie, kit. Ben fatto. Michael, sto captando un veicolo in avvicinamento. Abbiamo un piano? Kit, non ti sento. Michael, la mia rivoluzionaria struttura molecolare non resisterà al lupo. Uscite da lì immediatamente. È ora di utilizzare tutte le mie capacità. Kit, non ti sento. Gart è stato abbattuto, kit. Tutto bene? Jake, modalità autocruise danneggiata. Torniamo a casa. Ho urgente bisogno di una piccola sosta. Kit, ben fatto. I nostri amici sono al sicuro. Temevo non potessi farcela. Michael, questa non la memorizzo. Niente male, Jake. Per usare un termine umano, mi sento euforico come ai vecchi tempi. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.